Un film d'animazione ucraino finalizzato a sensibilizzare l'opinione dei bambini creando in loro una coscienza ambientale. Con questa prospettiva nasce Plastic Wood, progetto ideato dal regista ucraino Vladi Yudi, in pratica una decorazione cinematografica fatta interamente di rifiuti di plastica per raccontare storie su problemi ambientali e inquinamento. La produzione ha raccolto nelle aree verdi rifiuti riciclabili e non, creando il set per un horror intitolato Wrapped in Plastic. Il modello Hollywood dà alle persone l'illusione che il significato della vita sia tutto un lusso, la vita delle celebrità, la ricchezza e Plastic Wood ironizza su questo. Noi mostriamo che il risultato di questa mentalità ottenuta da Hollywood è un mucchio di spazzatura, è come se la spazzatura fosse ovunque. Il personaggio principale del film è un classico giocattolo statunitense, la bambola Barbie, che nel film d'animazione si chiama Garby, che in inglese vuol dire spazzatura. Ebbene, la bambola si perde in una foresta di plastica e viene attaccata dagli inquietanti abitanti della foresta rigorosamente in plastica. L'idea di Garby è quella di vestirla con abiti diversi, avere molte macchine, molte case, un sacco di cose. Per me è il simbolo di uno stile di vita consumistico e i bambini imparano dai giocattoli. Così abbiamo realizzato una storia che mostra loro la realtà, che svela questa mentalità. Dopo la prima in un cinema di Kiev, Wrapped in Plastic viaggerà all'estero per festival cinematografici. Il regista dice di avere in mente anche di raccontare la storia di Garby in una serie di cartoni animati.